Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale siamo ritornati con la carriera allenatore con la nostra Inter ragazzi oggi è partita veramente importantissima perché andiamo contro il Napoli e se non sbaglio a Napoli e quindi come sapete è una partita veramente tosta ma oltre alla partita con il Napoli ragazzi oggi ci aspetta anche il Genoa e come sapete dobbiamo continuare la nostra striscia di vittorie perché questa è la classifica ragazzi innanzitutto perché il Napoli è lì, ci siamo ma poi perché dobbiamo superare la Lazio ma soprattutto dobbiamo andare a prendere la Juventus che sta viaggiando a ritmi veramente incredibili io signori andrei a giocarmi questo big match subito con il Napoli e speriamo bene questa è la formazione ragazzi io come sempre ragazzi vi ringrazio perché devo farlo ogni volta lo so che sono magari noioso ma vi ringrazio per il grandissimo supporto che sta dando a questa serie sono veramente contento che vi piaccia e sono contento soprattutto che anche i ragazzi che mi seguono di fede non interista gli possa piacere questo genere di video sono veramente contento che riuscite ad andare oltre veramente la fede calcistica ci tenevo molto a questa cosa e mi avete veramente stupito tantissimo grazie, grazie, vi voglio bene continuate così ragazzi perché ci tengo veramente molto ed eccoci qua allo stadion olympic, certo siamo al San Paolo ragazzi e inizia Napoli-Inter parleta veramente molto importante e speriamo che Kane si possa veramente svegliare eccolo subito Kane vede largo Bia Biani attenzione perché c'è un grandissimo buco per Mauro Riccardi davanti al portiere Mauro Riccardi Reina mamma mia è partito fortissimo l'Inter calcio di punizione per il Napoli batte Giorginho la mette in mezzo a saltare c'è Kondok Bia attenzione Mertens El Kaduri largo c'è Maggio in seguito da Teyes attenzione grandissima chiusura di nuovo di Musacchio su Insigne Jovetich bellissima palla per Mauro Riccardi attenzione può andare Maurito la finta di Mauro la mette in mezzo dove c'è Kane lentissimo anche nel tiro ma attenzione l'azione non è finita chiude tutto Mertens però peccato molto lento qui di nuovo Kane c'è Jovetich provo un numero Jovetich fermato dal Biol poi Jovetich cade ma non è rigore ma la palla è ancora lì attenzione a Giorginho in seguito da Kondok Bia esce benissimo Giorginho Mertens la larga per Goulam poi si fa vedere benissimo Gonzalo Higuaini il primo pallone toccato probabilmente da lui attenzione la mette in mezzo poi Musacchio respinge attenzione a Goulam Florenzi chiude bene poi Goulam riesce a rintervenire nuovamente ancora Goulam ma Musacchio fa grandissima guardia ancora molto bene qui Musacchio poi quanto qui ha? Jovetich non è non è scattato Peric non gliel'ho potuta giocare attenzione perché in segno si allunga il pallone può andare Lorenzo in segne qua Higuain fa quasi fallo devo dire in segne centrale para benissimo Andanovic che fa ripartire l'Inter ragazzi mamma mia che partita poi Bia Biani può andare al Kondok Bia attenzione chi può andare al Kondok Bia c'è Kane attenzione davanti a Che Arena palo doppio palo di Kane non ci credo non ci credo anche sfortunato però qua ragazza mamma mia doppio palo di Kane poi Florenzi la rimette in mezzo ma non ci credo doppio palo signori che occasione attenzione a Florenzi può metterla in mezzo dove c'è ancora Kondok Bia ma Reina sempre sul pesto no ragazzi doppio palo di Kane al trentesimo meritavamo qui il vantaggio bellissima azione di Kondok Bia attenzione perché il Napoli sta facendo la partita insigne la passa a Kaleon poi largo per Mertes Kaleon il tiro fuori c'è una deviazione no oddio Andanovic ho sbagliato con Higuain madonna può andare Tejes eccola la palla per Perisic che può andare Ivan Perisic c'è in mezzo Icardi che non ci arriva ancora Perisic in rovesciata meritiamo questo punto meritiamo ragazzi siamo pericolosissimi quando attacchiamo altra occasione per l'Inter e qui fortunatissimo il Napoli che miracolo di Andanovic ragazzi non si deve prendere gol adesso attenzione e Sisamir bravissimo e finisce qui il primo tempo ragazzi con l'Inter che sarebbe ripartita nuovamente 0-0 al 45esimo è una partita bellissima per il momento ma che ancora ferma sullo 0-0 bisognerebbe cercare di segnare Icardi contro tutti la mette in mezzo per Kane Kane attenzione la mette in mezzo per Jovetic fuori bella azione anche qui dell'Inter ma non riusciamo a segnare attenzione Icardi ruba un gran pallone Jovetic attenzione Mauro fa partire Yoyo può andare Yoyo può andare Yoyo davanti a Reina c'è mezzo Kane c'è Cardi il tiro di Cardi Mauro Icardi 1-0 signori finalmente la sblocchiamo abbiamo rischiato tantissimo anche in questa azione ho voluto fare il gol della merda ma è stato pericolosissimo non so perché Icardi se la si è allungata così tanto Jovetic e poi Icardi non andava non andava signori anche Kane si è allargato ma alla fine Icardi ha purgato Pepe Reina sul primo palo signori grande gol forza 1-0 meritiamo adesso ragazzi non so se coprirmi sinceramente non so sinceramente se coprirmi adesso resto ancora un po' così e poi magari metto una una formazione un po' più difensiva Florenzi bisogna cercare di tenere un po' più il pallone là davanti David Lopez intanto inseguito ancora da Mauro Riccardi che fa ottimo pressing poi David Lopez la gioca in avanti attenzione il tiro di Kane attenzione al Napoli che inizia a spingere Perisic però grande grande Ivan con Dogbia che palla per Jovetic attenzione Jovetic il tiro fuori fuori ma è stata deviata non è stata deviata Jovetic ha tirato fuori proprio così Sifloro via sto pallone via sto pallone vi prego pareggio di insegna all'ottantottesimo lo sapevo io lo sapevo non c'è stato niente da fare qui Andanovic mi è uscito attenzione ragazzi perché non è finita non è finita adesso il Napoli sarà tutto indietro suppongo ma non è finita madonna però non così non così bravo Miranda attenzione perché c'è il recupero Jovetic Perisic c'è in mezzo con Dogbia il tiro di non ci credo ragazzi non ci voglio credere non ci voglio credere non può non può tirar così non ci credo ma che tiro ha dato che brutto tiro ha dato dai che forse possiamo fare ancora l'ultima azione Iaic c'è Mauro Icardi che la mette in mezzo per Jovetic ancora Jojo fermato da Val di Fiori e forse finisce qui finisce qui la partita uno pari non ci posso credere uno pari abbiamo preso l'ottantottesimo guardate ragazzi guardate pareggio che non ci sta peccato peccato abbiamo meritato abbiamo meritato porca misera abbiamo avuto la maggior parte delle azioni non ci credo ragazzi non ci credo non ci voglio credere ma no ma allora scusatemi però adesso mi sembra esagerato durante gli allenamenti di ieri Jovetic si è infortunato al Coccige la prognosi di 4 mesi ma com'è la prognosi di 4 mesi ma non mi possono fare infortunare così i giocatori ragazzi cioè Jovetic c'era ho tutti e due i CoC infortunati e adesso cosa mi invento sia Cerenoglu che i Jovetic sono infortunati e qui l'unico che mi può fare il CoC è Mares e quindi la formazione non cambia cambia invece cambia porca puttana 4 mesi cioè 4 mesi non lo vede più il campo Jovetic già Cerenoglu per quanto ne ha Cerenoglu per fortuna che Cerenoglu fra 4 settimane ritorna ragazzi ma per fortuna però Jovetic non ci voleva Jovetic non ci voleva comunque andiamoci a giocare questa partita con Mares CoC d'altronde Mares l'abbiamo preso anche perché può fare veramente tantissimi ruoli dall'esterno destro all'esterno sinistro all'ala sinistra ma può farmi anche il CoC speriamo bene ragazzi però siamo sfortunatissimi abbiamo abbiamo subito veramente un sacco di infortuni tra Perjic New Curie Cerenoglu Cerenoglu non ha ancora visto il campo ragazzi la Serie A non ci ha ancora giocato in Serie A comunque adesso ragazzi dobbiamo stare concentratissimi con questa partita contro il Genoa allora c'è Perjic ragazzi il tiro di Ivan Perjic Uykani gran parata calcio d'angolo però per l'Inter ancora Uykani respinge ma cosa succede cosa sta succedendo un'altra punizione per l'Inter stavolta tira Florenzi il tiro di Florenzi ancora Uykani non posso crederci non posso crederci siamo sfortunati anche siamo sfortunati colpo di testa la palla resta lì però ancora Perjic può andare di nuovo al cross lo effettua ancora calcio d'angolo pressa l'Inter pressa tantissimo l'Inter Perjic la mette in mezzo dove c'è Musacchio ma la palla resta lì e ci arriva ancora Perjic attenzione Kane il tiro di Kane respinto poi arriva in mezzo Bia Biani che forse subisce fallo ma no Perjic può andare Mares con un numero la mette in mezzo Mares dove c'è Kondogbia centrale attenzione a Pavoletti c'è Santana ancora Pavoletti ancora Santana il tiro di Santana grande parata di Andanovic Mares per Tejes che non so perché sia là sinceramente Icardi se ne va Mauro porca miseria che palla per Tejes che aveva messo grande chiusura del centrale di Marchese che chiusura incredibile ancora Musacchio ragazzi fondamentale Mares che palla per Contogbia il tiro di No 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 ragazzi no no mi dispiace ma questo non l'accetto non l'accetto una parata del genere è impossibile Icardi per Kane ancora Marchese ragazzi non ci riesco non è possibile fare gol oggi finisce qui il primo tempo 0-0 ragazzi può andare Mares che palla per Kane il tiro di Kane ma è lento è lentissimo ragazzi è lentissimo io io sto veramente pensando di di tagliarlo fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate ma credo di avergli dati anche anche troppe possibilità per quello che per quello che ha fatto ti palla per Riccardi sì ma un Riccardi ancora lui mamma mia 1-0 signori che azione finalmente l'abbiamo buttata dentro sto pallone mamma mia che fatica grandissima azione qui l'hanno toccata tutti Tejes Iaic qui gran pallone per Riccardi che poi la mette a filo a fin di palo dove non può arrivarci Uicani che ha fatto una partita strepitosa ma alla fine si è dovuto inchinare a Mauro Riccardi calcio le punizioni di no mamma mia che azione perotti Santana perotti Santana un'azione uno schema su punizione molto pericoloso che mai mi sarei aspettato sinceramente attenzione perotti davanti ad Andanovic il miracolo di Samir Andanovic tiene in ballo l'Inter ancora attenzione Iaic che ruba il gran pallone se ne va Adem con un numero ancora Adem il tiro di Iaic Uicani Uicani un altro miracolo ma ancora l'Inter che pressa che vuole rubare a tutti i costi il pallone e ce la fa Perisic ce la fa Perisic poi subisce fallo forza ragazzi forza brutto fallo su Perisic che se n'era andato di rinconna appena entrato tra l'altro può andare a via venire la mette in mezzo dove c'è Iaic Iaic andiamo 2 a 0 Adem Iaic ma che azione di Jonathan bian bianì signori mamma mia mamma mia signori 2 a 0 ed ha chiuso il match 3 punti per noi che fatica ma alla fine ce l'abbiamo fatta e va bene così grande Jonathan in mezzo per Adem Iaic che davanti a Ucani non sbaglia e Adem Iaic lo dico qui si sta assolutamente guadagnando un posto da titolare nell'attacco dell'Inter tanto si è infortunato Mauro Icardi ragazzi si è infortunato Icardi lo caviamo per evitare altri acciacchi caviamo Peris e dentro ok ho finito le sostituzioni comunque dentro Palacio al posto di Mauro Icardi che ha sbloccato il match Palacio la gioca per Iaic ancora Adem che può andare la mette in mezzo dove c'è Mares attenzione il tiro di Mares un altro miracolo se vogliamo chiamarlo così di Ucani calcio d'angolo ennesimo calcio d'angolo per l'Inter colpisce Felipe meno di testa ma è un colpo di testa senza potenza attenzione però ti è finiscia qui 2-0 Inter e 3 punti a casa partita tostissima soffertissima ma che abbiamo assolutamente meritato abbontantemente devo dire 16 tiri 12 in porta e il match è finito 2-0 attenzione perché c'è Lazio Juventus signori c'è Lazio Juventus e quindi sicuramente qualche punto su qualcuno l'abbiamo recuperato ed è stato un pareggio e c'è stato il pareggio ragazzi no no l'Alazio ha vinto contro la Juventus l'Alazio ha vinto 2-0 contro la Juventus ragazzi e questo è importante perché abbiamo recuperato punti sulla prima classifica che è la Juventus poi ci pensiamo a recuperarli su giocatore infortunato ragazzi non posso l'Alazio ha vinto un infortunio un infortunio sarà indisponibile per due mesi tipo di infortunio frattura dito piede non so sinceramente cosa fare vi dico un attimo le cose come stanno è inutile qui proprio girarci attorno il gioco sta rovinando il gioco mi sta rovinando la carriera sinceramente perché mi ha tolto Jovetic per 4 mesi questo vuol dire che non lo posso utilizzare praticamente per tutto il girone di ritorno vabbè non lo so i car di 2 mesi vuol dire che ritorna nel girone di nel girone di ritorno praticamente fortunatamente sta tornando C'è la Noglu mancano un paio di settimane e per il momento stiamo giocando così questa è la formazione che dovrei utilizzare quindi ragazzi mi raccomando sotto nei commenti consigli anche per la formazione vi ricordo che ho questi panchinari e quindi fatemi sapere magari come posso come posso gestirmi ma soprattutto ragazzi cosa importantissima fatemi sapere come mi devo comportare con Harry Kane allora il prossimo match è il match con l'Udinese io gli darei un'ultima possibilità poi fatemi sapere se magari devo allenarlo ancora farlo giocare ancora si deve ancora ambientare però con l'Udinese dato che è comunque sesta in classifica mi sembra un ottimo un altro ottimo test anche perché di partite a Kane io ne ho fatte fare parecchie devo dire ma realmente non ha non ha fatto niente realmente non ha fatto niente e a gennaio potrebbe essere una buona pedina di scambio con qualche altro attaccante magari migliore fatemelo sapere sotto nei commenti ragazzi mi aspetto veramente tantissimi consigli da voi mi raccomando lasciate un mi piace un commento così noi ci vediamo ad un prossimo video un saluto a me e alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti